Buona serata a tutti amici di Super J. Mentre le perturbazioni nord atlantiche continuano a viaggiare alle alte latitudini, l'Europa centro occidentale e quella mediterranea sono abbracciate da un promontore anticiclonico che garantisce stabilità con caldo più intenso nella penisola iberica ed in Francia e moderato altrove. Nei prossimi giorni, compreso ferragosto, non si prevedono novità sostanziali, sebbene le regioni più settentrionali dell'Italia potranno essere interessate da instabilità sempre più diffusa. In Abruzzo ci attendono giornate soleggiate in tutti i settori e per tutto il giorno, fatta eccezione per qualche nuvola pomeridiana in formazione sui rilievi. La ventilazione sarà debole a regime di brezza nelle aree interne e costiere ed il mare calmo o quasi calmo. Le temperature saliranno seppur di poco su valori appena sopra quelle che sono le medie del periodo, massime comprese tra 28 e 33 gradi e minime della notte tra 14 e 21 gradi. Per il meteo è tutto, a domani mattina per un nuovo aggiornamento. Grazie a tutti.